Ciao amici, benvenuti in questo nuovo video, video speciale, ospite speciale, il maestro Ettore Mancini. Quest'intervista è stata veramente molto emozionante per me, ci sono degli spunti veramente interessantissimi, quindi invito tutti quanti voi a guardare il video fino alla fine. Tra l'altro il maestro Mancini ci ha anche lasciato un suo studio, per cui io ho trascritto questo studio e troverete il link per scaricare questa trascrizione qui sotto in descrizione. Allora, non ci rimane altro che vedere questo incontro, tre domande ad Ettore Mancini. Ettore, buongiorno, benvenuto. Che piacere vederti. Piacere mio, sono molto contento, ti ringrazio innanzitutto di aver accettato il mio invito. Tu sei un uomo, un insegnante, hai dedicato tutta la tua vita alla didattica e all'insegnamento della batteria. Ci troviamo in questo meraviglioso posto che è il tuo Drum Studio di Roma, famosissimo, frequentato da quanti allievi? Hai mai fatto un conto di quanti sono stati? Non lo so, mille, duemila, non lo so, nel corso degli anni anche, considerando quelli precedenti al Drum Studio, però tantissimi. Molti di questi adesso sono affermati professionisti, che devono un po' tutto ai tuoi insegnamenti. Quindi la nostra intenzione era quella di farti alcune domande, capire meglio la tua storia e anche la tua visione e la tua concezione del mondo della musica e della batteria. Quindi il format prevede tre domande e con queste cercheremo di capire un po' chi è Ettore Mancini e come funziona la sua attività. Certo, certo. No, intanto lasciami dire il piacere di accettare questo incontro con te, sai, ne abbiamo parlato più volte della stima che io ho nei tuoi confronti, perché sono stato testimone del tuo inizio e di quanto il tuo inizio era un inizio didattico nel percorso che tu hai fatto all'Università della Musica, ma in realtà venisti da autodidatta, ma io rimasi con gli occhi di fuori a vederti suonare. Quindi non ti potrò mai scordare, per cui rimane sempre molto forte questa sensazione e questo ricordo in me, quindi la stima per quello che hai fatto professionalmente nei decenni successivi, ovviamente. È veramente un piacere. Ti ringrazio, ti ringrazio. Allora, la prima domanda che vorrei farti è questa. Negli ultimi vent'anni il mondo della musica è molto cambiato e quindi sono anche cambiate le richieste che vengono fatte ai batteristi. Volevo sapere come è cambiata, come si è evoluta la tua proposta didattica. Ci sono state delle cose che tu hai dovuto modificare, degli argomenti che hai dovuto aggiungere. E quali invece sono gli argomenti invece intoccabili, quelli proprio sacrosanti, irremovibili? Allora, io mi sono sempre occupato di un approccio alla batteria multistilistico, escludendo la parte rock, rock, da rock al metal. Quindi chiaramente se parliamo di pop rock, ovviamente parliamo di pop, che può essere più o meno duro, più o meno morbido. Quindi quello è il confine entro cui io sto da lì, poi vado nella direzione opposta, passando per la parte funk, la parte fusion, la parte latina, la parte sudamericana e tutto il resto degli stili. E ovviamente molto la parte jazz. Quindi io ho questa visione, per me l'insegnamento è questo. Ci sono altri che si occupano anche della parte rock, cosa che io non faccio. Però tendenzialmente io ho sempre avuto l'idea che il batterista dovesse essere un batterista con una conoscenza multistilistica. Ovviamente i fondamentali sono sempre gli stessi, non cambia nulla. E rimanono gli stessi, indipendentemente dallo stile che tu andrai a suonare. E credo che un buon batterista deve avere dei fondamentali ben strutturati e ben studiati. Quindi è chiaro che sotto questo aspetto non c'è stato un cambiamento, perché sono stati quelli e sono rimasti quelli. Ovviamente la batteria è uno strumento giovane, per cui chiaramente c'è stata un'evoluzione. Per cui se determinati studi sono quelli fondamentali, poi le visioni e le tematiche che si possono, che si sono sviluppate, bisognava essere molto attenti a ricevirli. E qui ovviamente tutto sta per un insegnante guardarsi intorno, vedere quello che succede. Perché sennò rischi di insegnare sempre la stessa cosa per tanti anni, no? E' la fine, per cui poi ne parleremo se tratteremo altri aspetti sotto l'aspetto della didattica. Ma certamente l'insegnante è uno che studia con i suoi allievi. Quindi io non mi sono mai posto su un piano, su un piedistallo con l'allievo sotto. Io ho fatto un percorso, ora sono quasi 40-45 anni, insieme ai miei allievi. E questi sono succeduti. Alcuni sono stati con me molti anni, alcuni sono stati un numero di anni ridotto, alcuni sono stati per 5 lezioni, per 10 lezioni. Ma comunque ho ottimi rapporti, ancora oggi ci si sente, ci si vede. Quindi voglio dire, io sono cresciuto con loro. Ho cercato di studiare al meglio quello che erano le basi che rimangono inamovibili. E ho cercato sempre di affinare, di capire che cosa si potesse modificare, modernizzare, quale nuova visione si potesse centrare. Ovviamente questo attraverso ciò che si vede anche in internet e attraverso il contatto con tanti colleghi. Questo è stato, per cui c'è sempre un qualcosa che si va ad evolvere. Ovviamente, quello che posso dire sicuramente è che tantissimi anni fa si suonava, io ero molto indirizzato anche verso cose forse troppo complesse. A un certo punto ho capito che il linguaggio musicale doveva essere un po' più semplificato, perché gli arrangiamenti sono cambiati nel corso degli anni. Negli anni 80-90 c'era un'idea, poi si è andato ad asciugare. Quindi più precisione, più maggiore lettura delle parti, il timing più corretto. E quindi, diciamo, forse ho occupato meno tempo per certi argomenti e mi sono fermato più su altri. Ettore, la seconda domanda che ti vorrei fare è questa. Ci sono tanti batteristi oggi che dedicano gran parte della loro attività all'insegnamento. Innanzitutto poi mi piace sapere il tuo pensiero su questo. Molti lo fanno per necessità. Naturalmente altri lo fanno per vocazione. Quindi, da te che sei un grande insegnante, vorrei capire, vorrei che tu ci spiegassi quali sono, a tuo avviso, le caratteristiche, le peculiarità, le abilità che un insegnante deve assolutamente avere. Quindi gli argomenti sui quali lui deve assolutamente formarsi e migliorarsi per poter fare l'insegnante. Conosco bene l'argomento perché, al di là della mia esperienza diretta in qualità di insegnante, quasi tutti i miei allievi sono insegnanti a loro volta, nelle varie parti d'Italia da cui provengono. Quindi ho visto anche il loro percorso, come si è andato a evolvere. E ho capito che, comunque sia, non tutti possono essere buoni insegnanti, al di là del valore musicale. Dico una banalità. Dici, sai, quella è bravissima a suonare, però non è detto che siccome suona bene insegna bene. Vabbè, è una banalità. Certo. Dunque, è vera, ma è una banalità. Adesso, qual è il punto? Fare una lezione non è fare uno show. Fare una lezione, io a volte dico, l'insegnante dal punto di vista della parte istrionica, che è un elemento importante a cui tutti noi siamo legati, perché se siamo saliti su un palco, ma che sia nel campo teatrale, cinematografico, televisivo, musicale, è chiaro che c'è anche la voglia di apparire e di mettersi in mostra. È una componente, non dico che è solo quello. È una componente. Se ci portiamo questo bagaglio nel momento in cui andiamo a fare lezione, e purtroppo alcuni lo fanno, già lì, purtroppo, il lavoro dell'insegnante avrà delle pecche. L'insegnante deve essere un po' come un padre, che deve accompagnare, non deve condizionare. Deve guidare, ma senza, stando un po' nascosto, cercando di toccare le molle giuste affinché la persona che è di fronte metta in luce le proprie caratteristiche, le proprie qualità. E al tempo stesso, essere guidato laddove ha delle difficoltà. Per cui, tu insegnante, lo devi aiutare a risolvere quelli che sono i suoi nei, le sue zone d'ombra, e chiunque ce le ha. Sono diverse da persona a persona, ma ognuno, anche quelli più dotati, quelli di me, hanno un qualcosa, un elemento che non funziona. La concentrazione, la timidezza, la troppa esuberanza. Ci sono tremila elementi. A quel punto, quindi, quello che serve è fondamentalmente... lo posso racchiudere in un concetto che è quello che riguarda proprio l'aspetto culturale delle persone. Nel senso che, e non intendo cultura in numero di lauree, ma chi ha osservato, chi ha letto, chi si è interessato a certe cose, chi ha certe sensibilità, ovviamente è più attento a guardare i soggetti che ha di fronte, farne una sintesi di quello che sono determinate aspetti della personalità, del carattere, e quindi aiutarli in quel senso. L'insegnante deve fare questo, perché è chiaro che chiunque sa suonare un paradidor può insegnare un paradidor, ma non è solo quello. Certo. Se uno mi dice, ma tu che cosa invidi ai grandissimi batteristi, quelli super, quelli che noi abbiamo amato e continuiamo ad amare, sono le mani la tecnica? No, non è mai la tecnica, è la testa. È la testa di questi emoticisti che a me affascina. Le mani vuol dire che se vanno meglio di me, forse hanno fatto un po' più di me, forse erano un po' più portati di me, ma non è quello, è la testa. Allora l'insegnante deve aiutare a far sì che la testa dell'allievo si metta nella posizione migliore, per crescere come persona in primis, crescere culturalmente, e da lì quindi poi trasferire sullo strumento quella che è la sua personalità, perché ciò che vince è la personalità in un musicista. Non si possono solamente creare dei bravi batteristi tecnicamente, perché uscirà solo quello che ha la personalità. Queste parole che tu dici sono veramente importanti, vanno pesate e vanno analizzate una per una. Credo che tutta la comunità batteristica che vedrà questo video avrà sicuramente tanto da studiare e da riflettere. Adesso invece ti faccio una domanda che riguarda un po' la tua attività, la tua carriera. C'è stato un incontro, una collaborazione, un evento che ti ha colpito particolarmente e che quindi tu ricordi con particolare piacere in questi anni? Beh, io mi sono occupato molto di didattica, pur avendo suonato ovviamente, ho avuto la fortuna di suonare con bravi musicisti, l'ho imparato molto in tante occasioni, in tante situazioni, però è notorio che mi sia occupato molto di didattica. è chiaro che per me l'università della musica è stato l'incontro della mia vita, è stato l'elemento che mi ha cambiato la vita. Io già mi dedicavo molto all'insegnamento, mi piaceva molto, mi piaceva e oggettivamente vedevo che avevo dei buoni risultati. Poi mi trovai a insegnare al timba, una scuola che ho amato molto, ed c'era molto fermento al timba, perché c'era Beppe Gianpietro, c'era Alberto Danna, come no? c'era John Arnold, che era stato precedentemente mio allievo, poi è diventato un batterista, un fuori classe, c'era Horacio Hernandez in quegli anni, quindi era una scuola, voglio dire, già lì. Io mi ricordo, a proposito di Horacio Hernandez, mi ricordo che facevamo una specie di pellegrinaggio ogni tanto, perché c'era questo cubano pazzesco, assolutamente sconosciuto, perché noi non lo conoscevamo, e lo abbiamo visto fare in quel piccolo gabbiotto, insomma in quell'aula, delle cose pazzesche. Sì, sì, perché stavo il tuo giorno a studiare lì. E quindi mi trovavo già a insegnare in una realtà, insomma, che a Roma in quel momento era il top, poi senti parlare dell'Università della Musica, della Musica, che stava nascendo, abbiamo detto, figlio di figura dell'Università della Musica, e invece poi mi trovai molto convolto, e fu per me, insomma, accettai con un po' di timore, perché sinceramente non mi sentivo pronto per un'esperienza così grande, era partita veramente a pomba, e in quegli anni era una scuola veramente eccezionale, eccezionale ma poi per la qualità degli allievi che arrivavano fondamentalmente, e poi le mire erano alte, la voglia di fare al massimo c'era, insomma, poi delle cose non hanno funzionato a un certo punto, ma sono stati anni splendidi. Quindi per me, con un po' di timore, mi accostai, c'era gente più esperta, c'era Maurizio De Razzaretti, c'era Claudio Mastracci, c'erano tanti altri, Fabrizio Sferra, insomma, poi mi trovai addirittura a fare il coordinatore, il direttore della facoltà di batteria, quindi ancora di più, mi trovavano le gambe quasi, e quindi è stato l'incontro che però mi ha consentito di imparare tanto, di guardare e imparare. Le riunioni sulla didattica che facevamo, gli incontri a volte con Massimo Moriconi e Fabio Mariani, per molte ore della notte a continuare a discutere di didattica, quanto mi hanno insegnato, quanto ho imparato da loro, non lo scorderò mai, quindi nella mia formazione ho avuto quell'esperienza, proprio per l'interscambio con tutti i colleghi dei vari strumenti, con Ivano Cassella, che era il proprietario, il direttore, da cui c'era da imparare tanto, sotto tanti aspetti, poi non è che condividessi sempre tutto, però cavolo che personaggio, che cervello, modicisti molto esperti, e didattica erano una grande esperienza, quindi io li imparavo tanto, quindi per me l'incontro con l'Università della Musica è stato, sono stato il primo allievo dell'Università della Musica, perché ne ero il direttore, e poi ogni incontro con ogni mio allievo per me è stato un incontro fantastico, ovviamente non posso citarli perché sono talmente tanti, ne scorderei qualcuno, però l'incontro con i miei allievi è stato sempre veramente per me un momento fortunato, perché da loro ho imparato tantissimo, perché se tu riesci a metterti in secondo piano e osservare un allievo, ma osservarlo veramente su come ragiona, su come pensa, su come si concentra, su come si mette in relazione allo strumento, e quindi per cercare poi di capire come aiutarlo a risolvere determinate problematiche, ma in certi casi sei tu il primo a imparare da lui, perché ho avuto allievi bravissimi, veramente, e la mia fortuna è stata avere questi allievi, e da loro ho imparato sempre tanto, quindi la mia didattica si andava sempre a modificare, a evolvere, e non è mai stata, ogni anno io dicevo sempre questa cosa, e l'ho sempre detto, se io pensassi, no, se io penso come insegnavo un anno fa, mi metto le mani nei capelli, perché dico insegnavo malissimo, questa è una grande cosa, perché è così? Questa è una grande cosa, perché l'evoluzione e il fatto di pensare sempre a cambiare, a capire cose nuove, è un fatto importante, anche è un gesto di umiltà, a mio avviso, perché uno potrebbe anche dire, vabbè, questo è il mio programma, e seguiamo questo, il fatto di aggiornare continuamente questo programma, è anche un segno di umiltà, e di personalità, a mio avviso. No, no, ma guarda, questo è essenziale, è talmente, la batteria, non c'è un modo per studiare, ce ne sono tanti, quindi qualunque cosa, anche la migliore, non è detto che non ne possa poi avere un altro, quindi è solo se continui a studiare, continui ad aggiornarti, e se ti metti in discussione, che potrai, anche perché insegnare sempre lo stesso modo per una vita, sarebbe terribile. Noiosissimo. Ettore, sei stato veramente gentilissimo, l'intervista sarebbe finita qui, però, se hai ancora un po' di pazienza, e hai, diciamo, il piacere di lasciarci, un tuo studio, una tua routine, oggi si chiama Workout, penso che sarebbe di grande interesse, per tutti coloro che guarderanno questo video, quindi se vorrai lasciarci un esercizio, per noi sarebbe veramente fantastico, si può fare? Sì, allora, a me piacciono molto le polimetrie, e trovo che il drumming moderno, poggi talmente tanto, sulle miola, sulle polimetrie in genere, farò due piccoli esempi, delle miola, quindi la polimetria, di ciò che accade, ogni tre note su quartine, e poi, la polimetria con gruppi di cinque, con due sticking di cinque note, sempre all'interno di quartine, ovviamente lì la cosa importante, è avere la capacità di seguire il click, e di saper contare, chiaramente se io suono un gruppo di cinque, su un cinque quarti, tutto va pari, se uso una miola di tre, torna bene sul tre, però molto spesso suoniamo in quattro, e sul quattro noi dobbiamo mettere questo tre, questo cinque, e a volte il contare in quattro quarti, con la frase che gira ciclicamente, dà dei problemi, all'inizio bisogna dedicarcisi un pochino, ecco faccio vedere questa piccola cosa, che sia di stimolo, a chi ancora già non l'avesse studiata, perché è una cosa che muove molto, io non sono un grande amante delle figure dispari, nel senso intese come quintine, settimine, in certi casi suonano anche bene, però insomma secondo me non sono, nel mio modo di vedere, di sentire, non sono una cosa a cui tengo tantissimo, mentre mi piacciono tanto le polimetrie, ma solo una questione di gusto personale, per cui faccio vedere una piccola cosa, vediamo subito, mostrerò sul click, delle figure in sedicesimi, lo sticking, però non sarà uno sticking, che si muove metricamente, in maniera sinergica, con la suddivisione quaternaria del quarto, ma suonerò quella che è l'emiola, quindi una figura in cui l'accadimento è ogni tre note, quindi cosa determina, se non ci fosse il click, chi si trovasse a sentire questa esecuzione, penserebbe che sono terzine, primo sticking, destra, sinistra, sinistra, uno lo collega automaticamente alla terzina, ma se lo vado a mettere sui sedicesimi, succede questo, quindi sembrano terzine, ma di fatto sono sedicesimi, adesso ciò che conta, è il fatto del saperlo contare, in quattro quarti, parto da uno uno in sedicesimi, e poi suonerò questa figura, sempre un gruppo di tre, questa volta userò, destra, destra, sinistra, parto dai singoli, e passo a questa figura di tre, sempre contando in quattro quarti, quindi ci sono delle note, che sono gli accenti, nel primo caso un accento e due ghost, nel secondo caso due accenti e una ghost, e quindi questa figura che si ripete dietro, creerà questa modulazione, questa metrica diversa rispetto alla metrica di base. Un secondo passaggio, andiamo a fare la stessa cosa, non più con l'emmiola, che è l'accadimento ogni tre note, ma con un gruppo di cinque note, il primo sticking, sarà un classico gruppo di cinque, la destra sempre accentata, la sinistra ghost, quindi destra, sinistra, destra, sinistra, sinistra. Il secondo gruppo di cinque, sarà una sorta di six stroke roll, mancante di una sinistra, sempre sui sedicesimi. I gruppi di cinque, e contando i quattro quarti. Ettore, sei stato veramente gentilissimo, io ti voglio ringraziare, credo che queste cose che hai detto siano utili, siano preziose, vale la pena riascoltarle, e riascoltarle, e riascoltarle. Grazie ancora. Spero che sia di interesse a quelli che vedranno questa chiacchierata, amichevole, con un amico, vero, e un collega che stimo tantissimo. Ti ringrazio Ettore, alla prossima. Grazie. Ciao a tutti.